Ciao ragazzi, sono Femme e Maru e siamo al terzo video di oggi e faremo la reazione a un video che si chiama Blossom Tebat ci sta un pipistello molto piccolo qui che ha famo e io vorrei stare a dare in questo video Giordanali, Erdan, B, X, N, S, Masinopatric e DL Pangino alcuni pensano che i misteri fanno schifo ma possono essere anche dei bei animali ooo, sono bella ooo, sono bella ooo, sono bella e la prossima è il nome da non ho un po' così come quella che ci viene a fare come quella che ci viene a fare ciao